L'argomento di questa lezione è il declino dei poteri universali, cioè della chiesa e dell'impero. Vedremo cioè come questi due pilastri della società tardo-medievale comincino un processo di decadenza. Iniziamo dal papato esaminando il pontificato d'Innocenzo III, che fu papa dal 1198 al 1216. E andiamo a vedere la situazione dei poteri universali dopo lo scontro tra i comuni e Federico I. Dopo lo scontro tra i comuni e Federico Barbarossa, che come abbiamo già visto nel capitolo precedente si era concluso favorevolmente per i comuni, la chiesa era uscita rafforzata e ricca di prestigio, mentre l'impero si era indebolito, in quanto dopo l'improvvisa morte di Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa, avvenuta nel 1197, era nata una violenta lotta di successione tra due pretendenti al trono. Da un lato abbiamo Filippo II di Svevia, che era il fratello di Enrico VI, candidato dei grandi feudatari ghibellini, e dall'altro abbiamo Ottone di Brunswick, duca di Sassonia e Baviera, candidato invece dei Guelfi. Quest'ultimo era il preferito di papa Innocenzo III, dal momento che aveva promesso che se fosse stato eletto lui avrebbe obbedito al papa, venendo incontro alle sue richieste sui territori italiani. Per capire meglio ciò che stava succedendo, è utile esaminare brevemente la figura di questo papa, cercando di capire quali fossero i suoi propositi, cosa pensasse della chiesa e dei rapporti con l'impero. Diciamo innanzitutto che papa Innocenzo III era stato eletto papa nel 1198 a soli 37 anni. Era convinto sostenitore della supremazia assoluta del papa su tutti i regnanti della Terra, congezione che prende il nome di Teocrazia, e che era stata già del suo predecessore Gregorio VII, papa dal 1073 al 1085, il papa che si era scondrato con l'imperatore Enrico IV, scomunicato, come ricorderai, e perdonato a Canossa. Ma per saperne di più leggiamo senz'altro qualche passaggio di una sua lettera, in cui i rapporti tra la chiesa e l'impero venivano paragonati rispettivamente ai rapporti tra il sole e la luna. Infatti dice, Così come la luna riceve la sua luce dal sole e per tale ragione è inferiore a lui per quantità e qualità, dimensioni ed effetti, similmente il potere reggio deriva dall'autorità papale lo splendore della propria dignità e quanto più è con essa a contatto, di tanto maggior luce si adorna e quanto più ne è distante, tanto meno acquista splendore. E in un altro documento affermava che siccome è proprio il papa che ha diritto di consacrare e di incoronare l'imperatore sulla base di quella teoria del sole e della luna, il papa ha quindi questo diritto di consacrare e incoronare l'imperatore, l'esame della persona dell'imperatore, cioè se ne sia degno, tocca di diritto proprio al papa, colui che impone le mani. E dice qui, Forse quindi se i principi, non solo con voti divisi, ma anche all'unanimità, eleggessero un re sacrilego o un pagano, noi, cioè il papato, dovremmo ungere e consacrare e incoronare un tale uomo? Certamente no. Da questi documenti, insomma, possiamo ricavare la concezione secondo la quale il potere del papa è superiore a quello dell'imperatore, con la conseguenza che decide lui se il candidato è degno o no di diventare. imperatore. E visto che abbiamo paragonato, lo abbiamo paragonato a Gregorio VII, per questa sua concezione teocratica, non è inutile fare un paragone tra due papi. Per quanto riguarda Gregorio VII, il suo sforzo di dare prestigio politico alla Chiesa, attraverso il principio della superiorità del potere spirituale su quello temporale, era solo uno dei suoi interessi, e neppure il più importante, perché il suo primo obiettivo era invece la riforma morale della Chiesa, invischiata la Chiesa all'epoca, come ricorderai, nella simonia, nel concubinato e nelle investiture. Per Innocenzo III, invece, questo è lo scopo principale del suo mandato. Ma torniamo alla lotta per la successione imperiale tra Filippo II di Svevia e Ottone di Brunswick, lotta in cui Innocenzo III si pose come arbitro, proprio sulla base della concezione teocratica della quale abbiamo parlato poco fa. E andiamo a vedere. Dunque, nel 1197 era morto improvvisamente Enrico VI di Svevia, sposato, come ricorderai, con Costanza d'Altaville, padre di Federico II. Abbiamo detto che seguì una violenta lotta di successione tra due pretendenti. Da un lato abbiamo, lo ripetiamo, abbiamo Filippo di Svevia, che è il fratello di Enrico VI, e dall'altro lato abbiamo Ottone di Brunswick. Ma Ottone, come puoi vedere da questa immagine, si conquistò all'appoggio del Papa promettendogli obbedienza in caso di elezione. Così, quando nel 1209 morì Filippo di Svevia, Innocenzo III incoronò il suo candidato prediletto, cioè questo Ottone di Brunswick, come abbiamo detto prima. Ma Ottone, una volta diventato imperatore, tradì l'impegno preso con il Papa, cominciando a reclamare diritti sia sui territori dei conti Canossa, destinati ad essere invece ereditati dalla Chiesa, sia sul Regno di Sicilio. E perciò fu scomunicato dal Papa, che inoltre lo minacciò di voler proclamare re di Germania Federico II. Federico II, che come ricorderete era figlio di Enrico VI e Costanza d'Altaville, all'epoca aveva 18 anni, era stato affidato a lui dalla madre prima di morire. Il giovane Federico si impegnò a riconoscere i domini del pontefice e a non riunificare mai Germania e Sicilia per evitare di far trovare la Chiesa in mezzo ai territori dell'impero. L'appoggio dato da Innocenzo III a Federico II provocò una guerra tra l'imperatore scomunicato, appunto Ottone di Brunswick, e Federico II, alla quale in guerra parteciparono anche il re d'Inghilterra, Giovanni Plantageneto, che si schierò dalla parte di Ottone, e il re francese Filippo II Augusto, che si schierò invece con Federico II. Questi due re si inserirono nello scontro non per aiutare i due contendenti, ma solo per questioni riguardanti alcuni territori che il re inglese possedeva nella Francia. Lo scontro decisivo avvenne nella battaglia di Bouvin nel 1214, con la clamorosa vittoria del re francese e di Federico II. A quel punto Federico fu incoronato re di Germania nel 1215, come sperato dal Papa. Ma quali furono le conseguenze di questa battaglia, di questo scontro? Innanzitutto aprì la strada al titolo imperiale Federico II, come abbiamo visto. Poi fece crescere il prestigio del Papa, che da quel momento riuscì a imporre la propria autorità più o meno su quasi tutti i territori d'Europa, dando ordini al re e principi, ottenendo per esempio che molti sovrani del tempo si dichiarassero vassalli del Papa, pagando anche un tributo alla Chiesa Romana. La monarchia francese si consolidò ulteriormente, mentre si indebolì il re inglese. È fuor di dubbio che questo Papa, questo Innocenzo III, abbia portato la Chiesa in una situazione di dominio sugli alti poteri, diventando sole secondo il suo stesso volere. Tuttavia non possiamo negare alcune ombre nel suo pontificato, come per esempio il fallimento della Quarta Crociata, Quarta Crociata durante la quale, 1202-1204, durante la cosiddetta Crociata dei Veneziani, nella quale Venezia dirottò le truppe crociate a Costantinopoli e dopo aver sottratto il controllo della città all'imperatore bizantino, ne fece la capitale di un impero latino d'Oriente, dimostrando praticamente che lo scopo dei Veneziani non era certamente la liberazione dei luoghi santi. E poi l'altra ombra del pontificato di Innocenzo III, quello che ne mostrò maggiormente la debolezza e decadenza, fu la lotta contro le eresie. Lotta che fu proclamata durante il IV Concilio Lateranense del 1215. Durante questo concilio fu ribadito il primato del Papa su qualsiasi autorità, ai chierici fu proibito il concubinato, fu confermato l'obbligo del celibato, furono vietati sempre al credo gli spettacoli, il caccio, il vizio del bere e giochi d'azzardo. Soprattutto fu bandita una vera e propria crociata, questa volta non contro gli infedeli musulmani, ma contro le eresie, cioè contro quei movimenti religiosi che professavano una dottrina che si distaccava dall'insegnamento della Chiesa. In questa miniatura del XIV secolo puoi vedere la Chiesa cattolica assediata dalle eresie che ne mettevano in pericolo quella che veniva definita la sana dottrina. Lo strumento per estirpare, come si diceva allora, la mala pianta dell'eresia fu il Tribunale dell'Inquisizione, un tribunale che aveva il compito di ricercare, in latino inquirere, da cui il nome inquisizione, di ricercare, dicevo, gli eretici per riportarli alla retta fede. L'eretico veniva interrogato, ricorrendo spesso alla tortura. Lo scopo era quello di riportarlo appunto alla vera fede, reintegrandolo nella Chiesa cattolica. Poteva essere poi punito con la confisca dei beni, con l'obbligo di fare un pellegrinaggio, ma anche con la morte al rogo se avesse rifiutato di abbandonare l'eresia professata. Tra le altre cose decise in questo concilio ce n'è una particolare, quella che riguardava gli ebrei che furono esclusi dalle cariche pubbliche e dovevano indossare indumendi o segni distintivi per essere riconoscibili, come poi avverrà molti secoli dopo, anche durante il periodo del nazismo. Particolarmente crudele fu la cosiddetta crociata contro gli albigesi. I catari o catari letteralmente significa i puri, crociata che ebbe un periodo lunghissimo dal 1208 fino al 1229. Ma chi erano questi catari o albigesi? Erano un gruppo religioso che predicava una sorta di dualismo. Secondo loro, due principi reggevano la terra rispettivamente e il cielo. Uno era cattivo, quello che reggeva la terra, che aveva creato il mondo, e l'altro era buono. La materia è il mondo visibile, perciò è opera del Dio cattivo, del diavolo potremmo dire. La carne è dunque colpita da maledizione. I suoi adepti dovevano quindi astenersi dalle relazioni sessuali, da tutti gli alimenti che fossero carne, latte, formaggi. E' per questo che anche l'incarnazione venne negata, perché Gesù non era di natura divina, ma solo spirituale. Non si era mai incarnato, la passione quindi sarebbe stata simulata e i catari si scoprivano spesso per il loro orrore di fronte al segno della croce. E questo era in contrasto, come potete, come puoi capire, con la dottrina cattolica. Dunque, questa eresia si diffuse molto nella Francia meridionale, la cosiddetta Provenza, soprattutto nella città di Albi, da cui il nome di albigesi, con cui venivano indicati i catari. La guerra, iniziata nel 1208, presto sfuggì al controllo del Pape e diventò una lotta spietata dei fegutatori del nord ai danni di quelli del sud per impossessarsi delle loro ricchezze. Continuò fino al 1229 e oltre, segnando anche il passaggio delle regioni meridionali alla corona francese. Le terre della Provenza furono devastate, le corti saccheggiate e gli eretici dispersi. E questo è un monumento esistente ancora oggi a Montsigur, dedicato proprio alla memoria di 200 catari bruciati. Il pontificato di Innocenzo III fu caratterizzato anche dalla nascita degli ordini mendicanti, vale a dire ordini religiosi fondati da due persone, San Francesco d'Assisi e San Domenico di Guzman della Spagna, che poi saranno dichiarati santi. Erano chiamati ordini mendicanti perché vivevano rinunciando alle ricchezze e in totale povertà, secondo lo spirito del Vangelo, quindi vivevano di elemosine. Anche se il loro esempio era una condanna del lusso e della corruzione presenti nel clero, i francescani e i domenicani si misero comunque al servizio dell'autorità ecclesiastica per combattere l'eresia, pur con metodi diversi. Per San Domenico l'erettico bisognava convincerlo con la parola, perciò era necessario essere preparati in teologia e nello studio della Bibbia per discutere quindi con gli eretici e convincerli. Per San Francesco invece la cosa più importante per convincerli che stavano sbagliando era l'esempio di una vita santa basata sulla povertà, sulla fraternità, i francescani infatti si chiamavano tra di loro fratelli, e sull'umiltà. Questi ordini ebbero una grande diffusione in Europa e molti lasciavano ogni cosa per seguirli. Il segreto di tale successo risiede nella loro nella novità della loro predicazione. Infatti non rimasero chiusi nei loro monasteri a pregare come generalmente avveniva per i monaci del passato, ma si inserirono nelle città predicando in mezzo alla gente. Nelle città dove come ricordirai esisteva una profonda disuguaglianza tra le classi sociali. Gli ordini mendicanti qui stavano dalla parte dei poveri, come aveva insegnato Gesù, una scelta che denunciava implicitamente il lusso e la condotta di vita dei ceti più ricchi. Per questo furono spesso avversati dal popolo grasso che li rimproverava di minare alle basi la società comunale che era fondata non sulla povertà e le lemosine, ma sul profitto e il lavoro. E passiamo ad esaminare adesso brevemente il punto 2 e l'ascesa delle monarchie nazionali. Le lotte tra il papato e l'impero che duravano ormai da qualche secolo avevano, come abbiamo già visto, indebolito questi due poteri consentendo la nascita dei comuni ma anche in questo periodo la graduale formazione di grandi stati autonomi cioè le monarchie nazionali che unificarono i territori nazionali e accendrarono il potere nelle mani del re esautorando di fatto man mano la nobiltà feudale. I primi stati nazionali che attuarono questo processo furono l'Inghilterra, la Francia e la Spagna.